Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Il titolo di questo video è volutamente provocatorio ovviamente. Non esiste una formula magica per la crescita muscolare, ma come Natural Bodybuilders la conoscenza di alcuni processi della fisiologia umana e certe accortezze nell'integrazione e apporto di macro e micronutrienti nel momento più importante e stimolante, sto parlando ovviamente dell'allenamento, può sicuramente aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo di aumento della massa muscolare. Il primo fattore per la crescita muscolare, come abbiamo discusso anche in altri video, è il cosiddetto Progressive Tension Overload, ovvero carico incrementale con tensione progressiva, con il cedimento, la fatica, come fattore secondario alla crescita muscolare. Ma come facciamo a far crescere i nostri muscoli? I muscoli scheletrici sono composti da diversi elementi, fra cui ovviamente proteine, che rappresentano circa 100-120 grammi per 450 grammi di muscolo, acqua, che rappresenta la maggior parte del tessuto muscolare, tessuti connettivi, glicogeno, minerali e altri elementi. Ma in questo video ci concentreremo sulla componente proteica del muscolo, che è quella che genera la porta. Le proteine dei muscoli non sono diverse da quelle che si trovano nel cibo, ovvero lunghe catene di aminoacidi che sono collegate l'una all'altra in una struttura che rappresenta il muscolo scheletrico, cosiddette fibre, eccetera. Ma come avviene questo processo, il processo di aumento della massa muscolare? In realtà ci sono due processi, due processi antagonisti, e cerchiamo sempre di tenere il discorso a grandissime linee, molto semplici, per cercare di comunicare a un'utenza più vasta possibile, e poi ovviamente non sono competente in materia di fisiologia umana, quindi non mi metto sicuramente in cattedra a parlare di questi processi. Ma molto semplicemente esistono due processi antagonisti che influiscono sulla crescita muscolare, ovvero la sintesi proteica e la disgregazione e degradazione proteica, ovvero il muscle protein synthesis, in inglese, e il muscle protein breakdown, degradation, o damage, appunto per quanto riguarda la versione inglese della disgregazione e degradazione proteica. La sintesi proteica stimola la connessione di un aminoacido con un altro per formare un muscolo, un processo molto dispendioso a livello energetico che accade grazie all'azione dei ribosomi, che se ci ricordiamo dalle lezioni di biologia del liceo, sono cellule messaggere, che operano seguendo le istruzioni delle mRNA. Quindi l'allenamento intenso stimola i nostri geni che scatenano l'mRNA, che ordina ai ribosomi di costruire nuovo tessuto muscolare. Questa è grandissima linea della sintesi proteica, e potete ovviamente immaginarla come un qualcosa di positivo quando si parla di crescita muscolare. Però, c'è un però, esiste anche un processo antagonista, che è quello della disgregazione proteica, o muscle protein breakdown, che è esattamente l'opposto. Sempre rimanendo a grandi linee, esistono degli enzimi bastardi, se volete, che lavorano contro il nostro duro lavoro in palestra, e più o meno velocemente si prendono gli aminoacidi dal nostro tessuto muscolare. Questo avviene sotto l'influenza di diversi ormoni, tra cui il più noto e il più temuto da noi bodybuilder, ovviamente, è il cortisolo. Molti però pensano che la disgregazione proteica, o muscle protein breakdown, sia solo un aspetto negativo, ma in realtà è molto più complicato di così, come potete immaginare. La capacità di disgregare e ricostruire tessuti nel nostro organismo, un processo continuo che avviene anche quando siamo a riposo, fornisce al nostro corpo numerovoli adattamenti e flessibilità. Questo permette al nostro organismo di adattarsi a stimoli continui e di rimodellarsi a seconda delle diverse situazioni della nostra vita, non solo allenamenti intensi, ma anche momenti di stress, periodi prolungati di digiuno e così via. Quindi, da questo punto di vista, anche la disgregazione proteica, o muscle protein breakdown, non è poi così negativa. Ora, quello che avviene alla massa muscolare dipende in sostanza dal rapporto e bilancio fra questi due processi antagonisti, il cosiddetto protein turnover. Quando la sintesi proteica è maggiore rispetto alla degradazione proteica, allora abbiamo crescita muscolare. Quando la sintesi proteica è uguale alla degradazione muscolare, non abbiamo nessun cambiamento in massa. Quando la sintesi proteica, infine, è minore della degradazione proteica, allora abbiamo un decremento della massa muscolare. Presupponendo ovviamente che il nostro obiettivo è quello di aumentare la massa muscolare, i nostri muscoli, ci sono principalmente due modi. Possiamo aumentare la sintesi proteica o diminuire la degradazione proteica, o anche cercare di fare tutte e due le cose allo stesso tempo. E probabilmente questo è il modo migliore per ottenere i risultati più lampanti. È importante dunque ricordare una cosa, che un allenamento intenso in palestra, cioè un allenamento fatto come si deve, voglio dire, aumenta sì la sintesi proteica, ma anche la degradazione proteica, quindi è importante avere alcuni accorgimenti per stimolare un protein turnover favorevole alla sintesi proteica. Come? Come il nostro post-workout interagisce con questi processi, come i nutrienti che andiamo ad assumere nel post-workout può, diciamo, influire su questi processi. Senza ancora entrare nei dettagli, ma cercando sempre di rimanere a un livello molto pratico, le proteine e gli aminoacidi stimolano la sintesi proteica, ma non hanno alcun impatto sul protein breakdown, quindi sulla degradazione. L'insulina, invece, stimolata dopo il consumo di carboidrati, come sapete benissimo, inibisce la degradazione proteica, ma non ha alcun impatto sulla sintesi proteica. Ovviamente è più complesso di così, ma nel post-workout questo è più o meno quello che accade. Questo ci porta a ragionare su alcune pratiche del bodybuild che a volte seguiamo la lettera senza comprendere i meccanismi intrinsechi. Sto parlando, per esempio, delle proteine e dei carboidrati per workout, ma soprattutto nel post-workout, dove appunto una combinazione di proteine e carboidrati aiuta da una parte a stimolare la sintesi proteica e dall'altra a rallentare il catabolismo e la degradazione proteica. Ovviamente aumentare la sintesi proteica sembra essere più importante, ma in realtà, come avete capito da, diciamo, i primi minuti di questo video, la crescita muscolare dipende da entrambi questi processi, quindi mirare da entrambi sembra essere, diciamo, l'arma, la strategia più efficace. Ovviamente ci sono diverse eccezioni, nuovi studi che dimostrano che in realtà, essendo anche gli aminoacidi e proteine stesse e insulinogeniche, un post-workout di sole proteine isolate e idrolizzate sarebbe sufficiente a stimolare la sintesi proteica e a rallentare la degradazione proteica, ma questo studio non tratta la ricarica di glicogeno muscolare, che è ugualmente importante dopo un allenamento. Lo posto però qui sotto, così potete darci un'occhiata alla fine del video. In tutti i casi, gli studi attualmente disponibili sembrano dimostrare che le proteine da sole siano superiori rispetto ai carboidrati da soli, ma la combinazione dei due ha sicuramente un maggior impatto sulla crescita muscolare, oltre che ovviamente alla ricarica di glicogeno muscolare. Quindi, a prendere una piccola parentesi, l'assunzione di citrati, antiossidanti, omega 3, altre sostanze alcalinizzanti e antinfiammatorie possono aiutare il recupero dopo un allenamento intenso e rallentare il processo di degradazione muscolare per rimanere costantemente anabolici. Ne abbiamo parlato nel video precedente e soprattutto in quello relativo ai citrati. In uno dei prossimi video vorrei parlarvi del mio pre-intra e post-workout e come insieme a mio nuovo allenatore abbiamo cercato di selezionare il giusto nutrient timing, quindi il tempo giusto per assumere diversi nutrienti, per stimolare la sintesi proteica e rallentare il catabolismo e per rimanere anabolici e quindi aumentare la massa muscolare. Nel frattempo vi rimando a iscrivervi al canale, condividere questo video e seguirmi anche sul gruppo di Facebook Iron Manager Online e se avete altri commenti o avete appunto il vostro parere su questa questione scrivete qui sotto, contattatemi sempre via Facebook tramite il gruppo. Ciao ragazzi e a presto!